Aegean Airlines, sono in compagnia del responsabile commerciale del Centro Sud, Gianni Donati. Benvenuti su Media Hotel Radio, ciao. Grazie dell'opportunità concessa di presentare le nostre operazioni. Da Napoli abbiamo per tutta l'estate su Atene dei voli con i nostri Airbus 320, tre frequenze settimanali che diventano quattro in altra stagione. Da Atene poi, essendo il vettore di riferimento della Grecia, offriamo la possibilità di raggiungere oltre 30 destinazioni in tutta la Grecia, isole e terraferma e poi per la possibilità anche di andare in destinazioni nel Mediterraneo orientale. Santorini, meravigliosa alle nostre spalle, un'isola che anche io ho avuto modo di visitare, che è incredibile. Sono tutti impazziti per Santorini, Mykonos. Sì, moltissime ormai in Italia conoscono queste isole, ma al di là di quelle principali, Rodi, Creta, ne esistono molte altre e noi le raggiungiamo praticamente tutte, quindi avere un volo di Aegean nell'aeroporto più vicino è un'opportunità incredibile perché permette di raggiungere qualsiasi punto della Grecia, anche gli angoli più nascosti e ogni isola è uno scrigno di tesori diverso uno dall'altro, quindi è sempre una nuova scoperta che si può fare per avere una vacanza meravigliosa. Ecco, diamo un consiglio, concludiamo con un consiglio brevemente, un'isola che magari ti è rimasta particolarmente nel cuore o che consiglieresti, proprio il classico isolotto di pescatori tranquillo per riposarsi, tipo per me, per rilassarmi? Diciamo che mi è piaciuto molto nel Golfo Saronico, che è proprio quello di fronte ad Atene ci sono due isole molto belle che ho avuto l'opportunità di visitare, sono Idra e Spezzes sono molto piccole, molto tranquille e molto autentiche, ancora è la vera Grecia, insomma, non quella turistica. E allora buon viaggio! Grazie! Grazie a voi!